Commemorazione a Palermo della strage di Via Carini nella quale era il 3 settembre di 38 anni fa morirono in un agguato di Cosa Nostra il prefetto Carlo Alberto Dallachiesa, la moglie Emanuele Assetti Carraro e l'agente di scorta Domenico Russo. Sentiamo Ernesto Liva. La sera di 38 anni fa a Palermo qui in Via Carini un comando mafioso uccideva il generale Carlo Alberto Dallachiesa il prefetto da 126 giorni a Palermo, la moglie Emanuele Assetti Carraro e l'unico agente di scorta della coppia Domenico Russo un delitto, un eccidio che è stato ricordato questa mattina da una cerimonia a cui hanno preso parte fra gli altri il ministro dell'interno Lamorgese, il comandante generale dell'arma Nistri e le altre autorità cittadine un omicidio quello dalla chiesa che venne compiuto qui in Via Carini che è una strada tra il popolare mercato del Borgo Vecchio e il centro di Palermo, piazza Politiama a due passi compiuto da almeno 8 sicari che sperarono almeno 25-26 colpi di Kalashnikov 8 sicari di Cosa Nostra incaricati di uccidere il generale prefetto un delitto che da un punto di vista giudiziario ha visto scrivere pagine ormai certe sui responsabili e materiali di questo omicidio ma è un delitto anche quello dalla chiesa che a distanza di 38 anni continua a riservare delle ombre sul contesto in cui maturò la stessa missione dalla chiesa a Palermo quei 126 giorni e anche su quello che è stato il contesto che ha in qualche modo accompagnato una missione dalla chiesa a Palermo in perfetta solitudine come lo stesso generale aveva più volte denunciato anche agli organi di stampa